Hola, io sono Marcus Codan e benvenuti nel let's play con Quittolo, Liucchelo e Akinbonano Ozzolo, 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 questa è casa mia, per ora, fino adesso, fino a quello che abbiamo fatto Lì abbiamo fatto il braccetto che ci porta fino all'albero, di qua, mentre voi dormivate Ho provveduto a fare una stanzotta E' alto, che dici, muoio? Olè! No, non muoio E vai A parte che qui c'era l'acqua, quindi potevo scendere In questa stanza incomincieremo a fare tutti i macchinari del caso E terremo in cantina le cose brutte che non vogliamo far vedere agli altri E inizierei proprio dalla Thermal, una mod che non conosco, di cui mi hanno parlato tutti molto bene E che però voglio scoprire insieme a voi, se voi sarete tanto pazienti, da sopportare tutti i miei fail E fino a qui, eeeh Allora, questi cosi vanno a corrente della Bullcraft, quindi noi andiamo a fare I golden conductive pipe, eccoli qua, che si fanno con i golden transport pipe, ovviamente con la redstone Quindi due cubozzi d'oro e un vetrozzo Andiamo a vedere Dovremmo, dovremmo, dovremmo avere il pulverized oro Però abbiamo comunque anche un cubettino Ce ne fa otto se non vado il razio Eeeh, dov'è la sabbia? Dov'è il vetro? Dove ho allocato il vetro? Mmm Non ce l'ho, e vabbè Cuociamo la sabbia Facciamo il vetro Qui devo sistemare Giuro che lo farò Poi sposterò un po' In realtà queste cose le potrei spostare di qua Mmm Non so, non so, non so Vedrò, vedrò, vedrò Eeeh, tutta questa cobblestone va qua dentro Voilà, voilà, voilà Io posso mangiare Qui, qui, qua Qui e là Allora, intanto che aspettiamo che la sabbia si cuocqua Dobbiamo, dobbiamo fare Dobbiamo fare A Kimbo se ne andate non ritorna più Dobbiamo, dobbiamo fare Non so come si chiama Mmm Vediamo un po' No Andiamo a cercarlo a mano, purtroppo Nelle, negli oggetti Ah, vediamo se la Nei ci aiuta Track, track, track Boycraft, no Non ci dice nient'altro Qui, no Mod Vediamo un po' Fattorization Equivalent exchange È una presa per il culo Eeeh Riandiamo un po' qua È un po' complicato No, non voglio vedere Allora No, non c'è la thermal Eeeh, vabbè, cerchiamo a mano Mmm Tutta la roba della Red Power Allora No, questo è il monitor della Guardate quanta robaccia Che non so assolutamente a cosa serva Eeeh Cargo manager Cart assistant Roba della Railcraft Mixer Mmm, va bene Ci mixiamo Dove diavolo sei L'ho visti qua sotto Eccoli qua Allora, ricordiamoci di D che è 2002 Me lo scorderò subito, immediatamente Eeeh Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo fare Il Liquid transposer I think I think Vediamo se il punto interattivo cosa ci dice Non ci dice assolutamente nulla Eeeh Il glass E qui c'è Ah, l'acqueus Accumulator Vediamo un po' come si fa Si fa con Il tin Il pneumatic servo Che è un servo dei pneumatic Vabbè Allora, intanto Abbiamo del ferro Possiamo usarlo Ah, ah Così Poi, poi, poi Prendiamo della redstone E prendiamo del vetro Che si sta cuocuendo Mettiamo uno qui Redstone E non ce lo fa Perché non ce lo fa? Perché ho toppato con la monosamente Voilà Uno di qua E uno di qua Oh, ecco qui il pneumatic servo Poi ci dobbiamo mettere Un bel secchiello vuoto Eccolo qui Già ce l'abbiamo Non ne facciamo un altro Della tin 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 Non ci credo Non ho Tin Tin Rinti Ok E poi dobbiamo fare Sto coso qui Che hanno tutti Sti macchinari Di questa mod Che è Ferro ferro Vetro vetro Oro Quindi proviamo a farlo qui Oro Vetro 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 Ferro 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 Andiamo a scoprire come funziona insieme questo apparecchio Da quello che so deve essere messo vicino all'acqua Quindi noi facciamo così Perfetto Ciao Allora cosa vuoi Vuoi Un segnale redstone Va bene E poi vuoi la configurazione Ok interessante Molto interessante Andiamo a farci un secchiello d'acqua Tra l'allero Tra l'allà Abbiamo Il ferro E sappiamo come usarlo Andiamo a prendere l'acqua da qua sotto Piton 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 E vediamo se funziona Cosa possiamo usare Ho messo a posto tutta la cobblestone Grazie Lo mettiamo qua Ci mettiamo l'acqua accanto Vediamo un po' se fa qualcosa 23 24 Ah ok Sta 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 aumentando Ora però visto che io sono Un avido Mi farei Una bella pozza d'acqua infinita qui E poi voglio provare a Occuparli Tutti i lati Per vedere se va più veloce No Qua No Qua Ma Qui Qua Ok Perfetto Vediamo un po' come sta il nostro coquivan Oh ce l'ha fatti un pochino Dai Lasciamolo fando Saliamo le scale Andiamo di qua No Non dobbiamo andare di qua Dobbiamo andare di qua Acqua infinita Thank you Allora 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 Speriamo che non si rompa come quelli dell'industria Craft Incorrociamo le dita Ok non si rompe Non è stronzo come quello dell'industria Craft Allora Per farlo toccare Dall'acqua il più possibile Magari solo il lato In alto Noi facciamo un buco qua Ok Lo mettiamo Qui E poi Intanto creiamo una pozza infinita sotto di lui Sto sperimentando ragazzi Non so assuramente niente Sono entrato a casa dei quitte Gli ho detto Ma che è sto coso E lui mi ha detto Se sta vicino all'acqua Crea acqua Al posto della pompa Perché effettivamente Andiamo a fare qualche Qualche paragone La pompa La pompa La pompa Gli serve tutta sta robaccia Direi che sono quasi equivalenti Soltanto che una costa molto 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 di più in ferro E l'altra no Però La pompa ha bisogno di elettricità Mentre questa invece sembra funzionare Da sola Allora Poi Ma è già diventata infinita l'acqua L'avevo messa anche a destra e non me ne sono reso conto Bah può darsi Allora Qui la fermiamo Qui Qua E qua Allora adesso sta crescendo di 31 Facciamo 1 2 3 Ogni 3 secondi cresce di 1 Perfetto Ma La mettiamo un po' qua No La prendiamo da lì No Oddio No No Stai calmo Stai calmissimo La prendiamo da là Oh 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 Vabbè Ok Aiuto tu Vado via Andiamo a prenderne un altro po' L'ho già detto piton 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 in questa puntata? No Lo dico Piton 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 Vediamo se aumenta ciccio Cacchio E' già pieno E' già pieno Fantastic E' interessante questa cosa Vediamo Alle usc- No Boh vabbè Allora Se io fossi Fossi Guardare lo mondo Mi servirebbe Ah non posso usare Non ho i liquid pipe Chiediamo qualcuno Se ha visto un deserto Qualcuno ha visto un deserto Nelle vicinanze? E intanto Torniamo Da noi a fare Dov'era a fare A fare a fare a fare a fare A fare un po' d'oro Nessuno ci risponde Gli ok e quinto Lo saranno molto impegnati E vabbè Poi Intanto che ci siamo Non si può sentire Intanto che aspettiamo Facciamo I wooden E li rendiamo Conductive Ne facciamo tre Dopodiché Ok Qua sopra Facciamo I golden Transport pipe E li facciamo diventare Golden Conductive pipe Voilà Molto bene Allora Da questo qui Faccio andare L'acqua Qua voglio mettere I motori Qua dietro E quindi Ciccio qui Può stare benissimo Tranquillamente Qui Senza Senza disturbare Oppela Io lo metterei Lo metterei Lo metterei Lo metterei Dove Dove lo mettiamo Allora Qui arriva l'acqua Così Poi A muro Di qua Perfetto Qua dietro Ci mettiamo questi Ce ne avanza uno E qui mettiamo Il pulverizer Il pulverizer Poi 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 No Non con questi Ma con Quest'altri Attivo Attivo qua Eh beh Sono un Babbeoide L'acqua Non serve a questo L'acqua serve Allo steam Invertiamo le parti Merci Allora Gli steam Stanno qua No ma questo Non è uno steam Piton 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 Ne voglio fare tre Che sono le cose Che piacciono a me Qui dobbiamo rendere Tutto illuminato Altrimenti la gente Ci bucca dentro casa Acqua e stisti Ma manderemo L'acqua qua sopra Vabbè Chi se ne frega Dell'estetica Quindi prendiamo Lobby stick Lo tornichiamo E ci mettiamo Le torciotte Dove le mettiamo Le torciotte Qui è un po' fastidiosa In effetti Ora che ci penso Ora che ci penso Ora che ci penso Vabbè Per ora Lo mettiamo qua Patience E di qua Ci mettiamo questo Così Proprio Per gradire Vediamo se parte Neanche parte Si rifiuta proprio Ehi Ehi Tu sei un redstone Dovresti Redstonearti Redstone Hop hop No Ti rifiuti Ti stai rifiutando Buon Vabbè E le macchine Le macchine Le macchine Le mettiamo qua dietro Va bene Molto bene Molto bene Allora Che altre macchine Vogliamo fare Vogliamo fare Una furnace Furnace Mi raccomando Luke è uscito Ci servono Dei bricks Poi ho detto Bricks 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 Io ho tipo Mi sa Mi sa Mi sa Mi sa Mi sa Oh 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 Otto Precisi Si Yes Sure We can Ok Uno di redstone Dopodichè Due di cop Ecco il cop Uno di sticosi Che si fa con oro E redstone Lo facciamo qua Hop hop Gadget E ci manca Un machine frame Che palle Che si fa con Non ci credo Con la sabbia Ovviamente Te pareva Niente Sono destinato a non avere Non avere sabbia Mi dispiace Intanto rimettiamo a posto le cose Imporcianci Però 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 Io vorrei vedere Una cosa che fa Dust Facciamo Dust Se io Oh 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 Che cos'è questa figata Male Bestiale E cosa ci si fa Con questo Eh Il carcual Se lo brucio Fa carcual Ah Interessante Interessante Ah 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 Ho appena visto che No Questa qui è la potenza Non ci interessa Va bene Va bene Quindi Vediamo un po' Se send Esce qualcosa No 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 Ci serve un maceratore Con la cobblestone Per fare la send Allora aspettiamo Che venga giorno Oppure funziona anche qui Vediamo un po' Sì giustamente Non ci ho messo il call Ehm No Tu non sei una torcia Tu sei una torcia Se io ti metto dentro Uno stick Tu lo bruci Eh Sta bruciando Sta bruciando E non ha generato Alcunché Allora io direi Di aspettare Che venga giorno Aspettate che qui Chiudo E ho paurissima Aspettare che venga giorno Andare a cercare E i Come cavolo si chiamano Ehm I cactus E andare a prendere la sabbia Quindi verso un deserto Andiamo a dormire Buonanotte Sono sempre io Ho deciso che Per questa puntata Chiudiamo qui Fatemi salire qua sopra A mettere giusto Un po' di fence Intorno qua Così piano piano A termine di ogni puntata Abbelliamo Questa cavolo di torre Fino a farla diventare Uno splendore Di cobblestone Voilà Voilà Poi magari ci metto Dei cancelletti Così lo uso come Come discensore No come ascensore Perfetto Ci vediamo Nella prossima puntata Alla ricerca Di un deserto Ciao da Marcus Crohn